E io credo che queste parole siano indegne di un ministro. Un ministro, per quanto tecnico, non può parlare con me un questurino. Mi spiace dirlo, però è così. Non è possibile. Su questo mi richiamo, ultima cosa che chiudo. Sento spesso, ma non solo qui, che vengo stigmatizzato, o comunque vengo giudicato per essere stato un funzionario dello Stato, in particolar modo un funzionario di polizia, un questurino, ha detto qualcuno. Sappiate che ne sono orgoglioso. Non so se questo è un elemento di qualificazione ed un contributo a quello che sarà il mio lavoro per il futuro, ma io ne sono orgoglioso. Lo dico pubblicamente, colgo l'occasione, quindi vi ringrazio di avermi la data. Io sono orgoglioso di essere stato un funzionario dello Stato e quindi un questurino, o quello che con semplificazione linguistica, insomma, viene esemplificata. Mi scusi, grazie.